Non far disperdere il patrimonio di conoscenze che lega a chi vive in stato di detenzione con il mondo esterno, con i ricordi, i profumi, le ricette e gli ingredienti legati alla famiglia, e promuove, proprio da qui, dai piatti della tradizione, percorsi di reinserimento lavorativo ed opportunità per il futuro. È stato questo il leitmotiv e l'obiettivo del ciclo di incontri con le mani in pasta, il corso di cucina identitaria che ha visto protagonista Laura Barbieri insieme ad un gruppo di detenute della sessione femminile della casa circondaliare Rosetta Siska di Castrovillari, guidata dal direttore Giuseppe Carrà. Promosso insieme all'istituto professionale alberghiero Carol Wojtyla e coordinato dalla docente Rossana Barone, il laboratorio, che si è sviluppato lungo otto incontri, si è concluso nei giorni scorsi con una vera e propria festa, nel corso della quale le detenute hanno realizzato dei sacchetti con tutte le prelibatezze realizzate, con le proprie mani. Si tratta di una nuova esperienza stimolante ed emozionante allo stesso tempo, che inserisce nel percorso di responsabilità sociale che, e la famiglia Barbieri, continua a portare avanti. Dai teralli in padella, procedimento di cultura preferito per le corsiste, vista la disponibilità di strumentazioni che ognuna di loro ha solitamente in cella, e in assenza, per esempio, di un forno, alla schicchiolata dai peperoni cruschi al torrone. I sacchetti erano accompagnati da una frase ed un pensiero, ispirati ai temi della resilienza, della libertà e del riscatto.